Niccolò Cancelli, secondo gol in campionato, un altro gol bello e pesante. Sì, sicuramente ha aiutato la squadra a reagire dopo un gol dell'Avezzano. Comunque siamo stati bravi a non mollare perché il gol ci poteva tagliare le gambe. Su un campo difficile perché l'Avezzano ha giocato una grande partita. Sapevamo che erano in grossa difficoltà ma oggi non si è vista per niente questa cosa. Però non usciamo da qui con grande consapevolezza perché sono state due trasferte abbastanza complicate su due campi. Non è difficile strappare il risultato. Però non è stato un notaresco brillante? Non è stato un notaresco brillante ma incisivo e forse siamo riusciti anche a mascherare queste nostre debolezze che oggi forse sono uscite su questo campo. Nell'inconscio ci può stare questo discorso della gestione del vantaggio visto che avete questo ampio margine? No, noi assolutamente non pensiamo al Matelica, non pensiamo al Campobasso ma pensiamo partita per partita. Guardiamo a noi perché comunque noi sappiamo e noi siamo artefici del nostro futuro. Senti, dopo la sconfitta col Campobasso però avete riguadagnato dei punti dal Matelica. Questo è un bel segnale? Questo è un segnale perché non è mai facile rivincere dopo che si è persa una partita. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. La tua stagione dal punto di vista personale come la valuti e come ti senti? Io non voglio valutare la mia stagione. So di... posso essere utile per il mister, posso essere utile per la squadra e fin quando il mister mi darà fiducia proverò con tutte le mie forze a ripagare questa fiducia. L'ultima, meglio dietro le punte o meglio esterno? Meglio esterno. Meglio è la mia stagione.